Ritardo degli stipendi ai lavoratori e comportamento antisindacale dei vertici dell'Aias. E' la denuncia del consigliere regionale di Sinistra Ecologia e Libertà Giannino Romaniello che in un'interrogazione al presidente della Giunta e all'assessore alla salute chiede quali iniziative il governo regionale intende mettere in atto per far rispettare gli accordi sottoscritti dall'Aias di Potenza con la regione Basilicata. Romaniello ricorda che nel 2010 è stato siglato un accordo che prevedeva l'attuazione di un piano di riorganizzazione dell'Aias di Potenza tramite un forte sostegno finanziario regionale in termini di incremento di prestazioni. Quest'azione avrebbe dovuto assicurare l'equilibrio economico, il mantenimento dei livelli occupazionali e il pagamento delle cinque mensilità vantate dai lavoratori al momento dell'accordo. Nonostante ciò, a parere di Romaniello, l'Aias non sta rispettando gli accordi siglati.